Hi everyone, e bentrovati in questo nuovo video di come disegnare manga. Come disegnare manga è una playlist presente sul mio canale, dove ho raccolto tutti i video tutorial dedicati al mondo del manga. In questi video vi ho mostrato e vi mostrerò tutti i passaggi che una vostra idea di base, un vostro pensiero dovrebbe seguire per diventare prima una storia efficace e poi un manga vero e proprio disegnato, inchiostrato e quant'altro. Nel video precedente ho già arricchito questa playlist, questo percorso, cominciando a parlarvi di generi narrativi. Ed oggi vado a continuare questo discorso, parlandovi dei tra virgolette ultimi generi che noi andremo ad analizzare e che ci torneranno utili per continuare non solo il percorso per imparare a disegnare e a realizzare al meglio un manga, ma anche il percorso da poco avviato di come disegnare la figura umana. Perché il genere narrativo, quando si parla di manga in modo particolare, ma non solo ovviamente, influenza anche lo stile di disegno, il modo di concepire i propri personaggi e ovviamente anche la tecnica di disegno vera e propria. Ok, continuiamo questo nostro percorso e come vi avevo annunciato nel video precedente. Oggi vi farò compagnia andando ad inchiostrare la tavola che avete visto che continuavo a disegnare perché non ve l'ho detto la volta scorsa. C'è un ulteriore video dove cominciavo proprio da zero la tavola. Se qualcuno fosse interessato vi lascio il... qui in alto ragazzi, ecco. Riprendiamo oggi cominciando a parlare del seinen. Seinen è l'evoluzione dello shonen, che abbiamo analizzato la volta precedente. Seinen è quel genere narrativo per lo più dedicato ad un pubblico maschile che supera i 18 anni. Tratta varie tematiche dando grande importanza al fattore psicologico. Lo stile di disegno è molto più realistico, sporco, tra virgolette, ma dettagliato e alcune volte le storie si rivevano anche molto cruente. Esempi di seinen sono Trigun e Berserk. E aggiungerei anche Beastars. Io ho sempre detto Bestars, ma io sono quella che legge come c'è scritto. Vabbè. Anche Beastars è un esempio perfetto di seinen. Poi abbiamo il Giosei. Sperando che si pronunci così. Giosei è l'evoluzione dello sojo. Sojo mega digevolve. Giosei è quel genere narrativo per lo più dedicato ad un pubblico femminile che supera i 18 anni. Nel genere... Giosei? L'amore non è più etereo, fiorellini e cuoricini dappertutto, ma viene introdotto nella vita di giovani donne alle prese con la difficoltà della vita di tutti i giorni. Fidatevi, ogni cuoricino va... Le riflessioni sono molto più profonde. Le emozioni sono molto più svariate e trattate in modo più accurato. Lo stile di disegno, invece, è sempre molto curato e dettagliato, ma mai quanto in uno sojo. Esempio massimo di Giosei è Nana. Andiamo poi alla categoria rainbow, chiamiamola così. Stiamo parlando di shonenai e sojoai. Queste due categorie trattano di amori omosessuali. Lo shonenai tratta dell'amore tra uomini, mentre i sojoai dell'amore tra donne. Entrambi i generi si addicono ad un pubblico con età superiore ai 14, 15 anni. Sia negli shonenai che negli sojoai lo stile narrativo è molto simile a quello di uno sojo. Sì, anche nei shonenai, non importa se davanti c'è la parola shonen, perché comunque si parla sempre di amore, quindi succede. I protagonisti, nell'uno e nell'altro caso, sono alle prese con amori talvolta complicati e profondi, immerse nelle situazioni più disparate. Come lo sojo, lo stile di disegno, sia nello shonenai che nello shoujo ai, è molto accurato e ricco di dettagli. Forte importanza hanno i pensieri e le riflessioni dei personaggi. Esempi di shonenai potrebbero essere antiche buckery, given, e un esempio di sojoai è strawberry panic. Oppure, se qualcuno la conosce, come si intitola lì, butterfly effect. Vabbè, poi la pronuncia, lasciamola stare. Comunque, il titolo dovrebbe essere questo, butterfly effect, di un'atrice italiana, di Miu. Anche quello è no shoujo ai. Bene, ci sarebbero altri generi da analizzare, ma diciamo che per noi così è tutto. Può dirsi completo il nostro percorso. E dopo questa spiegazione, dovreste essere in grado di capire quale sia il genere adatto a voi. Nel momento in cui decidete di andare a cominciare a disegnare il vostro manga, a buttare giù, diciamo, le prime righe della vostra idea, capite quanto la vostra storia propenda per un genere piuttosto che per un altro. Invece, se magari disegnate da sempre, insomma, o comunque avete già sperimentato a disegnare, a inventare storie, adesso dovreste essere in grado di capire meglio dove stavate andando a parare. Potete capire meglio in quale direzione appunto la vostra storia, la vostra arte propende. Per fare un esempio pratico, io ho sempre avuto una passione per gli shonenai e in misura assai minore per gli shoujo ai. Difatti mi sto esercitando anche per riuscire ad assorbire i tratti stilistici caratteristiche dei due generi. Quindi tanti trattini e sbellucichini che tu dici ma è shoujo, sì lo so, mi sto ancora riprendendo ragazzi, ok? Se vedete anche la tavola che ho finito, sto finendo di inchiostrare, anche questo è un mezzo shonenai. Se un giorno avrò modo di raccontarvi meglio la storia del protagonista, ne sarò solo felice. Voi vedete qualche altro strappo, qualche altra bruciatura, quant'altro? Io confiedo nel fatto di poterla andare finalmente a scansionare e poi metterò i retini sia online, sia al pc che su questa. Farò un confronto e niente, anche in base a quanto sangue e sudore ci avrò sputato sopra, deciderò il futuro in questo senso. Occhio che c'è una linea che è uscita un po'. Deciderò il futuro in questo senso del mio lavorandis futuro. Infatti il prossimo video sarà un pratico tutorial su come utilizzare i retini. Sapete cosa sono? No, perfetto. Allora ci vediamo a maggior ragione nel prossimo video. Grazie ancora per l'attenzione e... Eccoci qua! Andiamo a scansionare! Ciao! Ciao! Ciao!